La puntata di ieri sera del Grande Fratello è stata veramente scintillante, i protagonisti in assoluto sono stati come sempre Beatrice Luzzi, Massimiliano Varese che a dir sua passerà a vie legali una volta uscito dal Grande Fratello e il ritorno di Heidi Baci che continua a cambiare atteggiamento nei confronti di Massimiliano, il confronto tra questi protagonisti ha causato una forte controversia tra gli inquilini, tanto che non sarebbe affatto piaciuta ai vertici Mediaset ed è arrivata perfino una chiamata da Pier Silvio Berlusconi, Varese ha minacciato anche di lasciare il gioco ormai troppo pesante e sono usciti dal reality, parole grosse, minacce e accanimenti, tutto ciò che Pier Silvio Berlusconi ha tentato di eliminare, in tutto questo si cerca di mediare ed è toccata ad Alfonso Signorini riportare la calma nel reality, sia per il suo bene, sia per il futuro del reality, sotto gli occhi dei telespettatori increduli.